Atletico Bomber contro Chardana, lo Chardana deve subito rispondere alle altre pretendenti per la lotta a evitare i playoff, siamo pronti, partiamo! Formazioni a partire dallo Chardana, che schiera Verdura in porta, poi abbiamo Spano, Crisafulli, Mura, Giordano, Allegra e Urru, quindi uomini contati per i biancorossi. Dall'altra parte l'Atletico Bomber in maglia bianca ma che oggi indossa le petturine arancioni, in porta abbiamo il duo Pinna Saba con Pinna che ha iniziato la partita, poi Veroni, Pietro Palomeda, Cucu, Vacca, Mammeli, Gastaldi e Roberto Medda. Atletico Bomber e Chardana hanno iniziato la loro partita, di fatto il posticipo del campionato di Serie D per questa tredicesima giornata, Bomber come già detto e ridetto fuori classifica per quanto riguarda la Serie D, lo Chardana deve rispondere a risultati importanti arrivati in questo turno, uno su tutti quello che ha visto l'Aston 7 battere con un punteggio netto, 7-2, il Blue Restaurant, ma non solo perché l'Olympic Sapo Marsiglia è riuscito a impattare sull'1-1 con il Real Café, insomma tanti risultati che vanno un pochino a cozzare con le ambizioni dello Chardana di evitare i play-off. Luca Giordano, palla che poi filtra bene per Andrea Spano, lato destro in area di gole, palla nel mezzo, rimane lì la conclusione, clamorosa mischia. Pietro Palomeda, la palla per Matteo Vacca che sta giocando molto dietro, Matteo Vacca che ci prova da fuori, conclusione alta, anche se non di molto. Pietro Palomeda gli toglie il pallone, poi un ripallo che lo favorisce, già al limite la conclusione. Palla che non esce di molto alla sinistra di Verdura. Lancio per Roberto Medda, Roberto Medda, l'Atletico Bomber è in vantaggio Roberto Medda che ha provvistato di un'uscita alquanto inattibile da parte di Luca Verdura che è saltato forse temendo il pallonetto, Roberto Medda invece ha calciato col destro basso e l'Atletico Bomber passa meritatamente in vantaggio quando siamo arrivati al tredicesimo minuto della prima frazione. Adesso Gastaldi prova ad entrare in posto sul pallone, poi Crisa Fulli si porta a spazio il pallone sbagliando. Pietro Palomeda la sua botta e qui Verdura si riscatta dell'errore precedente, poi rischia, attenzione ancora Pietro Palomeda al limite, ancora Verdura! Attenzione Luca Giordano, limite dell'area, il pareggio! Luca Giordano, il pareggio dello Chardana nell'unica conclusione in porta dei bianco-rossi in questo primo tempo. Uno a uno, siamo esattamente al sedicesimo della prima frazione, quindi tre minuti dopo il vantaggio dell'Atletico Bomber. Giuseppe Allegra adesso, la palla messa per Andrea Spano, che poi splendido per Luca Giordano! Giordano doppietta per lui, la ribalta lo Chardana nel giro di pochissimi secondi, ma qui genialata di Andrea Spano che ha pescato in area di rigore il solissimo Luca Giordano e per lui doppietta personale in pochi istanti. Poi Nicolò Mameli, numero per andarsene a due versari, attenzione libera Matteo Vacca, situazione di due contro due, Matteo Vacca è già al limite, la conclusione, il pareggio! Matteo Vacca col destro, la palla si è insaccata alla destra di Luca Verdura, conclusione potentissima, centrale, pareggio dell'Atletico Bomber. Poi Giordano, attenzione dal limite, servito da Andrea Spano, palla che sbatte sul palo esterno e sinistro. Angolo che viene battuto da Simone, mura, palla in mezzo, Andrea Spano, la riscodella per Giordano, conclusione sporcata. Riccardo Ru cerca lo spazio per me, tra la palla ma in mezzo, tiro cross che sorprende Pina e colpisce la traversa. Finisce in questo momento la prima frazione, si va quindi a riposo col seguente parziale, Atletico Bomber FC 2, FC Chardana 2. Ripartiti per il secondo tempo, al termine dei primi 25 minuti, il parziale era di 2-2 tra Atletico Bomber FC e FC Chardana. Ripillo anche i gol, al tredicesimo il vantaggio dell'Atletico Bomber con Roberto Meda, poi al sedicesimo il pareggio di Luca Giordano che si è ripetuto un minuto più tardi, al diciannovesimo il gol del 2-2, messo segno da Vacca. Pietro Paolo Meda, corsi a sinistra, cerca molto bene la testa di Matteo Vacca, è stato bravo Verdura a mettere palla in angolo. Guarda Andrea Spano, la prova direttamente Andrea Spano, lo Chardana passa in vantaggio, qui errore da parte di Filippo Saba che evidentemente non se l'aspettava, Chardana nuovamente in vantaggio. 3-2 per la compagine bianco-rossa quando siamo esattamente nel quarto minuto della ripresa. Adesso attenzione al quarto gol dello Chardana con Giuseppe Allegra, che ha fatto tutto e di più. sul lato sinistro in area di rigore, poi a giro, sull'uscita di Saba che è stato trafitto nell'angolo più lontano. 4-2 per lo Chardana. Spano va alla battuta della rimesa, splendida il colpo di testa. Da parte di Giacomo Crisafulli, Saba ha preso completamente in controtempo, palla che però è uscita sfiorando il palo destro. Roberto Omeda intanto dalla destra, palla a cercare, Matteo Vacca lo trova! Finalmente un pericolo anche dell'Atletico Bomber, con Vacca che ha concluso in diagonale, verdura in due tempi. Poi Nicola Mameli dietro, cerca di trovare, lo trova Roberto Omeda! La conclusione poi di Pietro Paolo Omeda, con palla che va a sfiorare il palo sinistro. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara, Aldo Loviselli, a decretare il successo dell'FC Chardana sugli Atletico Bomber FC, col punteggio finale di 4-2. Intervista a quattro nel post partita di Atletico Bomber contro Chardana, qui alla mia sinistra Arisha Pinna e Francesco Gastaldi, alla mia destra invece Luca Giordano e Simone Mura. Allora inizio dagli sconfitti, quindi da Arisha e Francesco. Allora ragazzi, cos'è successo? Perché dopo un primo tempo buono entusiasmante, dove avreste anche meritato forse di chiuderla con un risultato favorevole, poi nel secondo tempo non siete praticamente entrati in campo. Sì, avremmo avuto più occasioni, solamente che siamo stati un po' sfortunati, ovviamente sono stati molto bravi gli avversari a coprire il portiere. Purtroppo anche loro sono stati molto bravi a attaccare, un po' sul calo in difesa, siamo presi due gol alla fine del primo tempo e poi gli altri sono successi al secondo, anche se potevamo fare molto meglio. Nato Gastaldi ci ha abbandonato, ascolta chiudiamo con una battuta con te, come lo vivi questo dualismo con Filippo Sava? Molto bene, cioè è un buon portiere, però abbiamo ancora molto da imparare. Perfetto, perfetto, allora grazie a Arisha e grazie a Francesco. Andiamo adesso con Luca e con Simone, faccio praticamente, allora anzitutto a chi devo chiedere, a chi devo fare le domande? Facciamo entrambi, facciamo entrambi dai. Ok, perfetto. Faccio la stessa domanda, al contrario, però. Forse speravate che fosse più semplice, perché siete entrati in campo totalmente in balia degli avversari, o quasi? Sì, diciamo che considerate le tante assenze, oggi è stata un'ottima prestazione, tanto di capello agli avversari. Sì, diciamo che ci abbiamo messo a tutto, abbiamo giocato più sulla quantità che sulla qualità, abbiamo avuto, diciamo anche fortuna nel mettere assenze le poche occasioni che abbiamo avuto e speriamo di continuare così. Luca, tu nasci centrocampista, quanto è importante per te? Ti arrivano due palloni e li sbatti entrambi dentro, quanto è importante? Quanto è importante la fortuna? Tanta, tanta, tanta fortuna direi. È andata bene, mettiamola così. Purtroppo, ripeto, oggi c'erano alcune assenze pesanti e abbiamo dovuto coprire alcuni ruoli con dei giocatori che non erano abituati a giocare in quella posizione. Ok, chiudiamo con Simone. Simone, ti faccio due domande. Dove può arrivare questo Chardana e comunque sia, considerato che la classifica sorride, sia in casa bianco-rossa e sia dall'altra parte, quindi in casa defensor, si avvicina la scelta per te di dove dovrai giocare le fasi finali? Dove possono arrivare gli Chardana lo sanno solamente loro e l'impegno che ci metteranno da qui alla fine, perché ce la possiamo giocare a viso aperto con tutti e secondo me è anche una categoria migliore di questa, secondo me, perché è una squadra che quando gioca così anche nelle difficoltà, in sete contati, con molti giocatori fuori ruolo e riesce a vincere, vuol dire che anche in una categoria superiore può fare meglio. Per quanto riguarda la scelta, io sono sempre stato legato a Chardana, quindi quasi sicuramente continuerò con loro. Poi bisogna vedere anche gli Chardana come andranno, i defensor come andranno e vediamo adesso. Però è una scelta quasi forzata. Perfetto, allora grazie Simone, grazie Luca e in bocca al lupo anche lo Chardana per il prossimo del campionato. Luca Verdura voto 7. Nel secondo tempo, in particolare, evita la propria squadra di subire almeno un gol, se non addirittura due. Nuova promessa! Pietro Paolo Medda voto 7.5. Dopo qualche settimana passata in riserva, passa la Cuet di Via Cadello e ricarica il serbatoio. Gli effetti si vedono. È tra i migliori. Motorino! Andrea Spano voto 7.5. Pasticcione e dir poco, soprattutto nel primo tempo, ma quando si mette d'impegno, riesce a dare splendidi palloni per i compagni. Ritmo carioca! Grazie a tutti!